Claude Morgan, un compositore acciogano fra l'altro che compose questo pezzo 1,3 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un classico per banda un'apertura subito frizzante e spiritosa Maestro sei pronto? Sì Bimbo Jet! Grazie amici Grazie a tutti 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 Secondo me hai già sentito la concorrenza Vi vedo molto agguerriti Sono molto molto carico questa sera tutti i ragazzi